5 gennaio un saluto a tutti voi amici del canale youtube rieccoci ci siamo prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale iscrivetevi più possibile per far crescere il canale perché insieme commenteremo tante notizie di calciomercato di calcio giocato ma anche notizie che riguardano alcuni ragionamenti più che altro per esempio il ragionamento che si fa sulla coppa italia ragazzi ma voi sapete quanti soldi milan potrebbe incassare e quindi questo potrebbe essere un fattore positivo poi sul mercato se dovesse arrivare in fondo alla competizione solamente arrivare in finale di coppa italia allora ieri sera la juve ha battuto la salernitana quindi ci sarà il derby di roma la juve è ancora dentro il milan affronterà l'atalanta sono queste un po le squadre che si stanno giocando la competizione perché inter e roma scusate inter e napoli sono fuori dai giochi il milan affronterà l'atalanta mercoledì prossimo 10 gennaio a san siro ore 21 l'atalanta nei quarti di finale di coppa italia ne abbiamo parlato anche nell'altro video ci sarà la possibile l'occasione ecco di una rivincita dopo quel famoso 3 a 2 recente in cui muriel ha segnato nei minuti finali milan ha perso la partita a bergamo in campionato quindi subito dopo quella partita poche settimane dopo c'è la possibilità di una di una vendetta sportiva mettiamola giù così ma arrivare in fondo alla coppa italia oltre che alzare un trofeo ed è una cosa comunque importante perché il milan non vince la coppa italia da troppi anni ma in generale alzare un trofeo in stagione per dare continuità è sempre fondamentale per un club come il milan che negli anni passati gli anni addietro alzava trofei ogni stagione quindi non va sottovalutato questo dal punto di vista sportivo e di prestigio del club ma dal punto di vista economico se il milan arriva in finale oltre a portare a casa una decina di milioni di euro 10 milioni di euro dalla coppa italia non è poco partecipa anche alla supercoppa italiana e partecipare alla supercoppa italiana sapete bene che col nuovo format vanno in supercoppa le finaliste le due squadre in finale della coppa italia quindi anche se si vince o si perde la finale dà comunque l'accesso alla supercoppa italiana quella competizione con il nuovo format arriva a mettere in palio 23 milioni di euro 23 milioni di euro che poi vengono suddivisi questi soldi in base poi al piazzamento nella competizione quindi nella supercoppa e quindi aggiungiamo i 10 milioni se si arriva in fondo mettiamoci una bella fetta di soldi che il milan può guadagnare con il raggiungimento della supercoppa e anche dal punto di vista economico finanziario questa competizione non va assolutamente scartata ma proprio anche per il semplice fatto che il milan può vincere qualcosa quest'anno non si può snobbare questo è il mio parere personale poi ognuno è libero di pensarla come vuole molti la vedono come un fastidio come se poi il milan avesse tante altre cose da vincere non è più in champions league è lontano dal titolo in serie a e non è che il milan in questo momento si sta giocando la finale di champions e il campionato con l'intero la juve purtroppo sottolineamolo purtroppo quindi io la penso così anzi fatemi sapere anche la vostra qualcuno ho già letto qualcuno dei vostri messaggi sotto l'altro video però magari scrivetelo anche qui c'è un giocatore invece che al milan è praticamente un separato in casa ufficialmente ufficialmente Radekrunic è fuori dalle rotazioni di Stefano Pioli per un problema alla schiena precedentemente per una condizione atletica non ideale ma ufficialmente questa è la versione che giustamente fa passare il club legittima ma sappiamo che di base c'è una rottura di Radekrunic con il club con il milan perché lui già voleva partire in estate Pioli lo ha fermato lo ha bloccato ha bloccato la cessione questo però secondo il parere di Radekrunic perché poi praticamente qual è stato il vero problema il vero problema è stato che il Fenerbahce non ha mai messo sul piatto una cifra adeguata ora non è che il milan deve regalare i propri giocatori non è che il milan deve essere l'unica squadra al mondo a regalare i propri giocatori visto che quando va ad acquistare un giocatore ogni volta fanno anche la corsa ad alzare il prezzo quindi il Fenerbahce vuole Krunic e tiri fuori dei soldi neanche una cifra elevata ma parliamo di una cifra giusta per un giocatore d'esperienza per un giocatore comunque che ha vinto lo scudetto col milan due anni fa che ha partecipato alla champions un giocatore sicuramente non di elevata qualità tecnica ma comunque un giocatore da milan perché ha giocato al milan negli ultimi anni capitemi non sto dicendo che Krunic sia indispensabile però se il Fenerbahce vuole Krunic deve tirare fuori dei soldi non è che può pretenderlo gratuitamente o magari mettendo un milione, due milioni il Mian chiede almeno 5-6 milioni di euro il giocatore ha un contratto che scade nel giugno del 25 quindi praticamente tra un anno e mezzo e con un anno e mezzo di contratto il Mian comunque chiede dei soldi vediamo il giocatore ormai praticamente si può anche definirlo un separato in casa a meno che nei prossimi giorni anche considerando le problematiche a centrocampo Stefano Pioli non provi a convincere Krunic a rimanere questi altri sei mesi e poi a liberarlo in estate perché comunque a centrocampo il Mian non ha tutti questi uomini da poter schierare a Reinders, Loftus, Musa che ha recuperato dall'infortunio e verrà convocato con l'Empoli e Adli a quattro giocatori considerando l'assenza di Pobega per infortunio e la partenza di Benasser per la Coppa d'Africa attenzione se dovesse arrivare offerte per Krunic di 5-6 milioni anche da altre squadre per esempio in Lione aveva chiesto Krunic in estate se dovessero arrivare offerte il Mian prenderebbe quei soldi e li investirebbe sul mercato per prendere un altro centrocampista perché poi a quel punto davvero hai la possibilità di sostituire Rade Krunic quindi è un po' questa la situazione sul giocatore sul centrocampista ex Empoli tra l'altro il Mian gioca proprio contro l'Empoli e a proposito di Empoli c'è questo balottaggio a centrocampo tra Adli e Musa in questo momento che è venerdì 5 si gioca domenica Adli è leggermente più avanti rispetto a Musa anche perché Musa solamente ieri è tornato in gruppo abbiamo dato la notizia buona, bella finalmente dopo diverse settimane di stop e altra cosa da dire in difesa la questione principale è capire chi gioca in difesa se Pioli ha intenzione di schierare nuovamente Teo Hernández centrale con Florenzi a sinistra Calabria a destra e poi ovviamente Kier accanto a Teo Hernández oppure dare subito una possibilità da titolare a Matteo Gabbia che è rientrato dal Vigliareale che ieri ha svolto il suo primo allenamento al centro sportivo rossonero di Carnago altrimenti c'è anche la soluzione Simic per come la vedo io Simic merita spazio merita fiducia giocatore bravo credo che sia uno dei migliori del settore giovanile del Mian e se hai un giocatore forte, giovane tanto vale sfruttarlo invece di fare tante rivoluzioni cambi moduli giocatori adattati hai un centrale giovane, forte, bravo ha già dimostrato di poter giocare in Serie A lo metti dentro questo è almeno il mio punto di vista tra l'altro di fronte c'è Lempoli e non c'è il Real Madrid con tutto il bene e rispetto per la squadra toscana ci vediamo più tardi un caro saluto iscrivetevi un abbraccio ciao